qualcuno in sala d'attesa potete comunque ok marco ok benissimo allora e penso che possiamo iniziare abbiamo anche qualcuno nel gruppo facebook che ci segue buonasera perfetto allora e allora iniziamo con vorrei fare un'introduzione su proprio su come si struttura un file dati e poi vi dico cosa si cosa gli strumenti che occorrono per fare delle analisi innanzitutto excel è uno strumento indispensabile quindi excel comincia a condividere subito lo schermo così andiamo direttamente nel vivo excel è uno strumento indispensabile quindi una base una piccola base di excel serve per strutturare il file dati soprattutto se noi pensiamo alle analisi che che andremo a fare i file su cui lavoriamo potrebbero essere di vario tipo quindi un attimo che vi condivido comunque il mio vi condivido un tipico file dati eccolo qua che è un file appunto già compilato già riempito però ecco in questo momento questo è un esempio sono dati ovviamente ho camuffato l'identità dei soggetti però vi mostra come può essere strutturato un file dati quindi i file che noi abbiamo comunque possiamo come possiamo recuperare questi dati allora partiamo dalla dal dal caso più tra virgolette più difficile ecco quello manuale in cui noi abbiamo somministrato degli strumenti dei questionari delle indagini e dobbiamo quindi riportare questi strumenti in un in un luogo digitale dobbiamo digitalizzare questi strumenti quindi se non abbiamo già somministrato in digitale e abbiamo necessità quindi di inserire questi dati quindi io questo file che ovviamente poi vedo la prossima volta vi do degli strumenti in anticipo perché sapendo i partecipanti vi condivido la cartella e abbiamo quindi un foglio di inserimento dati consiglio excel o o simili comunque se avete open open office o ehm o numbers se avete il mac oppure io veramente mi trovo molto bene con google docs cioè eh avendo una gmail eh su google drive potete eh creare dei documenti che sono dei veri e propri fogli di lavoro come se fosse un excel ma si chiamano google doc che eh hanno la comodità di essere eh in cloud cioè vuol dire che questi documenti saranno eh in un sistema ovviamente protetto con con le vostre password quindi sono sempre dati eh sensibili quindi eh in teoria insomma dovreste stare molto attenti a non eh metterli in un in un luogo dove è possibile che qualcun altro acceda però ecco io mi trovo bene perché spesso lavoro in team ma no si lavora facendo delle ricerche in team e quindi in questo modo ehm si possono condividere questi file inoltre c'è il vantaggio che se lavorate su più dispositivi su un desktop piuttosto comportatile e avete più eh più computer o dispositivi a cui cedere potete accedere da qualsiasi dispositivo anche da tablet naturalmente eh non è l'unica alternativa potete utilizzare un excel un foglio Excel eh ovviamente potete utilizzare anche un file di testo eh vi farò vedere come importare i dati da in SPSS magari con un file di testo ma non è molto comodo ecco però sappiate che eh si possono importare i file eh da un un file txt buonasera si per vinca benvenuta ok allora eh questo è la struttura un file dati che eh immaginiamo che sia vuoto ecco questo a fianco ho messo un file vuoto e noi dobbiamo iniziare a digitalizzare questi dati ripeto nel caso più ehm più lungo potremmo dire di procedura dove noi abbiamo dei questionari cartacei quindi abbiamo i questionari abbiamo somministrato questi questionari o delle griglie di osservazione o delle interviste e quindi dobbiamo riportarli in digitale e naturalmente c'è una procedura molto strutturata eh da seguire per poter non fare errori e per ritrovarsi file già pronti già predisposti per eh l'analisi dei dati quindi inserimento dati eh innanzitutto non so se lo notate comunque me lo sottolineo eh ci deve essere una riga di intestazione e il file deve essere strutturato in questo modo le colonne sono le variabili e adesso vediamo come vanno inserite le variabili io avevo nell'invito avevo premesso che bisognava avere una conoscenza di base almeno delle di psicometria di dati di statistica perché eh non abbiamo il tempo di ripassare eh le scale eccetera quindi dopo è scontata alcune cose poi se qualcuno vuole ripassare magari posso fornire degli appunti perché magari non potete accedere più al mio corso eh mio insegnamento però insomma poi mi scrivete eventualmente per ripasso però ecco ripassate tutte le parole la parte di di base di analisi dei dati quindi bisogna sapere almeno le variabili che cosa sono e come si possono misurare quindi eh una riga ogni riga vedete che corrisponde a un soggetto a un'osservazione e una colonna le colonne corrispondono alle variabili e in realtà potremmo dire che ogni colonna deve contenere una informazione eh mi spiego meglio cioè non possiamo eh unire eh nella colonna se c'è una risposta che contiene più opzioni eh oppure per esempio a la risposta tipica che è altro oppure una serie di opzioni non possiamo metterle sulla stessa colonna cioè dobbiamo fare in modo che le colonne siano classificate in base a ehm diverse differenti variabili una colonna per ogni variabile questo affinché noi possiamo poi analizzare i dati in maniera corretta vi faccio vedere mh un questionario tipico vado un attimo qua sulla mia sulla mia tab di un google form ecco come vedete eh questo è un questionario in realtà che abbiamo anche somministrato in realtà per una ricerca e come vedete ogni eh variabile deve essere presente nel file dati quindi prendiamo il puntatore allora abbiamo data di complicazione ecco questa data di compilazione può essere eh utile per risalire ai questionari allora ritorniamo al caso in cui noi abbiamo i questionari cartacei sul questionario cartaceo una volta che inseriamo i dati una volta che abbiamo stabilito la griglia dovremmo inserire una data o comunque segnare un codice che possa essere riconosci possa ricorre si possa ricorrere poi eh ritrovare eh il file cioè cartaceo nell'eventualità abbiamo bisogno di andare a controllare i dati quindi eh data di compilazione per esempio può essere utile poi abbiamo il codice in questo caso il codice del soggetto in questo caso erano coppie quindi codice della coppia infatti come vedete eh io ho messo contatore il contatore può essere un numero da 1 a n quanti sono i soggetti a volte si possono mettere dei contatori specifici per i soggetti però è importante che ci sia questo proprio per identificare l'osservazione X eh l'osservazione determinata o il soggetto determinato o il questionario cartaceo come vi dicevo se stiamo inserendo i dati quindi è importante riportiamo sul questionario cartaceo un codice che riportiamo nella riga corrispondente all'osservazione che stiamo inserendo questo io l'ho fatto tante volte perché naturalmente non è sempre possibile non so pensiamo a contesti particolari dei centri eh di ospedalieri dei centri eh casi circondaliari o comunque casi in cui non possiamo dare un link per compilare online eh un questionario e quindi abbiamo bisogno del cartaceo e in questo caso dobbiamo essere molto liggi molto precisi perché in caso di eh verifica dei dati poi ci troveremo male ma anche con i bambini spesso avviene no ci sono delle delle schede da compilare nei test di performance pensate una una scala Wexler o comunque varie tipi di prove dove non è possibile utilizzare il computer quindi dobbiamo riportare i dati quindi questa è la prima fase della dell'impostazione dei dati ritornando al google form per farvi capire che comunque insomma questo è un questionario già già pronto ogni dato dicevo va inserito in una colonna separata quindi per esempio qui abbiamo genere e il genere va inserito in una colonna la professione va inserita in una colonna a parte titolo di studio e altre variabili che noi vogliamo indagare naturalmente questo eh è metodologia della ricerca le variabili che vogliamo indagare eh il perché dobbiamo inserire dobbiamo poi prevedere quali quali tipi di relazione vogliamo analizzare eh nella nella nostra analisi e poi a un certo punto eh ci sarà una prima sezione come vedete che è una sezione di eh variabili socialnografiche che non deve mai mancare quindi non dimenticatevi assolutamente variabili fondamentali come il genere del del soggetto che viene comunque indagato il l'età eh a volte eh generalmente cioè si usa la professione il titolo di studio eh in questo caso vedete c'era una eh indagine sulla sessualità e c'erano delle coppie quindi abbiamo inserito la relazione di coppia gli anni di convivenza e così via se stiamo indagando ad esempio è una eh la propensione all'acquisto come qualche laureando che sta qui che ci sta seguendo magari abbiamo inserito il reddito del 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 soggetto tutte informazioni che dobbiamo a priori pensare e poi inserire nella nell'indagine e se c'è un osservatore cioè se stiamo facendo un'osservazione pensiamo a una situazione appunto un goal setting un assessment center comunque dove c'è un un un'interazione di gruppo dove c'è un osservatore che sta osservando quindi e sta registrando delle variabili è bene inserire anche il nome dell'osservatore perché spesso si usano più osservatori per fare l'accordo poi tra osservatori no quindi nel caso di indagini di tipo osservazionale ci sono anche da inserire questi dati di chi compila la griglia se abbiamo una cbcl ecco per esempio per chi ci sta seguendo e conosce la cbcl naturalmente bisogna inserire chi è che sta compilando il questionario che è molto importante questo perché in questo momento noi cioè in quel momento noi potremmo sapere se il questionario è compilato dal genitore da quale genitore madre padre quindi sono tutti i dati che se noi omettiamo dopo è difficile o però quasi impossibile risalire quindi questa la strutturazione dello strumento ovviamente un altro argomento vogliamo volendo possiamo affrontare un altro incontro quindi impostazione delle variabili ogni variabile deve essere in una colonna e adesso andiamo a vedere come si codificano queste variabili come si inseriscono allora iniziamo dalla variabili socio anagrafico come abbiamo detto per esempio in questo foglio di lavoro come vedete c'è la prima parte che io ho il colore grigio e sono le variabili socio anagrafico allora queste variabili noi dobbiamo fare in modo che tutte le le possibili variabili siano poi analizzabili no in modo il più possibile oggettivo quindi tutte le variabili che sono categorizzabili c'è che possiamo etichettare in qualche modo dovremmo riportarle già in questo modo poi vedremo in spss come questo si fa c'è proprio una funzione specifica quindi cosa vuol dire che se noi abbiamo il genere ecco qui sarebbe opportuno il genere una scala nominale sarebbe opportuno che le variabili cioè le varianti livelli di questa variabile siano codificati con dei livelli numerici con dei codici quindi in caso di genere io qua ho messo ecco per esempio nel foglio excel io sono solita mettere commenti che aiutano chi va a inserire dati chi le va a codificare quindi non nel questionario ovviamente avremo genere maschio femmina perché non è che il soggetto gli possiamo dire indichi 1 se è un maschio indichi 2 se è femmina però in realtà noi abbiamo nel foglio dati ci facilita questo mettere un codice che sia corrispondente a l'etichetta un'etichetta di queste varianti di questi livelli della variabile quindi qui abbiamo messo 0 per femmina e 1 per maschio il mio caro il mio caro prof di statistica mi disse mettiamo uno che è maschio che diciamo è alto 0 femmina che è tonda va beh questo è un modo per ricordarci potete mettere 12 potete mettere a e b cioè sono numeri che costituiscono dei simboli mi raccomando non è una scala quantitativa quindi 0 è un simbolo per indicare femmina o non simbolo per indicare maschio poi vedremo in spss come si fa a dire al programma che questo 0 è l'etichetta femmina e questo 1 è l'etichetta maschio c'è qualcuno che sarebbe equivalente mettere mf sì è la stessa cosa mf è la stessa identica cosa grazie olimpia per la domanda adesso io quando vedo delle domande naturalmente cerco di vedere se sono subito pertinenti risponderò nell'immediato altrimenti rispondiamo dopo e quindi è un codice andiamo a parlare invece per esempio qui della scuola ecco in questa scuola io ovviamente il file l'ho fatto anche per farvi riflettere a cosa alcune cose ecco sulla scuola elementare e media invece scritto per esteso in questo caso sarebbe meglio inserire la scuola anche qui con dei codici e quindi mettere elementare magari mettiamo uno e scuola media mettiamo due se ci fosse anche scuola superiore possiamo mettere tre non è una variabile diciamo in questo caso non stiamo ordinando i dati stiamo semplicemente mettendo delle etichette anche qui però magari avere un senso cioè se mettiamo dei numeri magari possiamo dargli un senso in modo tale che che viene riconosciuto vedete che qua c'è anche una variabile gruppo perché a volte ci sono di delle osservazioni quindi che corrispondono magari a due situazioni diverse gruppo di controllo gruppo sperimentale e quindi la variabile gruppo è importante e quindi di solito si mette gruppo 1 e 2 e sapendo che uno corrisponde per esempio a controllo 2 corrisponde a sperimentale e così via tutti questi dati vanno documenta questa inserimento dati richiede una documentazione cioè bisogna documentare tutte queste etichette che mettiamo per poi permettere a qualcun altro che prende in mano il foglio dati quindi bisogna descrivere tutti questi etichettamenti queste categorizzazioni che facciamo affinché qualcun altro oppure anche voi stessi dopo qualche mese riprendete il file dati e poi non vi ricordate più uno cosa voleva dire due cosa voleva dire quindi è importante documentare tutto ecco in questo caso uso le note o i commenti meglio commenti secondo me ecco questa però una mia opinione personale codici numerici anche alfabetici è la stessa cosa possono essere anche per esempio come codici contatore possiamo mettere a 001 b 002 e così via certamente se noi mettiamo un numero sul contatore ci permette poi di ordinarli ma anche se mettiamo dei codici tipo genere maschio e femmina possiamo ordinarli maschi e femmine in ordine diciamo alfabetico quindi non è fondamentale questa differenza guardate anche la classe e magari anche qui avrei suggerito un un codice anche perché qual è il problema il problema è che se noi abbiamo una variabile inserita in modo così letterale può succedere che ci sbagliamo a digitare oltre che è più lungo no digitare ogni volta elementare anche se poi in exerci sono degli strumenti rapidi per completare in automatico e non poche volte mi è accaduto che poi portando il file in spss ci sono delle incongruenze cioè il programma non riconosce che tutti questi per esempio sono appartenenti appartengono alla stessa categoria quindi questo poi richiede un'ulteriore manipolazione dei dati in in seconda battuta quindi meglio mettere i codici in modo tale che il codice è più è più semplice ed è più univoco anche per evitare appunto errori errori casuali per quanto riguarda l'età consiglio sempre di mettere eventualmente se è possibile la data di nascita e non l'età perché perché magari a distanza di tempo se c'è una ricerca longitudinale per esempio in che va avanti in due tre anni può capitare che ci siano delle appunto età che si invecchiano no e quindi invece è meglio avere una un'età che poi si si relativizza e poi magari creiamo una colonna dove inseriamo l'età cioè è possibile anche insomma calcolarla noi l'età no ok andiamo a allora mettiamo che queste siano terminate ma di variabili e socia una grafica che sono tantissime quindi posso dirvi appunto nella nella particolarità una particolarità come ho detto prima da tenere in considerazione quando c'è scritto altro perché se io avessi e altro devo inserire una un ulteriore perché se c'è una specifica un ulteriore colonna a parte ma questo magari lo vediamo in seguito dopo che sono terminate le variabili socia una grafica quindi sono un po a libera interpretazione diciamo no le etichette le inventiamo noi le variabili possono essere svariate possiamo inserire titolo di studio e che sono magari o professione vedete ci sono c'è un elenco che può essere diverso da ricerca ricerca e oppure appunto relazioni di coppia quindi sono tutte arbitrarie cioè noi possiamo inserire dei codici di codici delle etichette che delle categorizzazioni arbitrarie a seconda del nostro piacere possiamo andare invece inserire i veri test psicologici ecco e qui dobbiamo stare molto attenti perché perché non possiamo arbitrariamente cioè tutto si può fare però dobbiamo stare attenti a seguire un po le istruzioni dell'autore possibilmente seguire anche l'inserimento dati le etichette che ci dà l'autore allora in questo caso bfq penso che molti lo conoscono al big file questioner ho portato questo esempio perché è molto molto semplice è la versione per i bambini a 50 item quindi anche più breve che cosa succede noi dobbiamo inserire questi dati ecco premetto che questo è un lavoro molto di attenzione un lavoro molto anche un po stressante quindi magari consiglio di farlo in due e ripeto a me è capitato tante volte di fare l'inserimento dati anche per la mia stessa tesi di laurea tesi di specializzazione di dottorato perché non si utilizzavano tanto gli strumenti poi come dicevo dipende anche da dalla dal contesto e quindi c'è qualcuno che detta e l'altro che scrive magari suggerisco anche se avete un portatile di comprarvi io l'ho fatto un tastierino numerico che vi permette magari perché nel mio non c'è non tutti i portatili hanno il tastierino numerico quindi doveste fare un po suonare il piano tra due uno quattro cinque due tre magari se avete un tastierino numerico che ci trovano usb ma anche bluetooth insomma così è molto molto comodo quindi io mi ricordo centinaia di dati che inserì il tastierino numerico mi ha salvato un po la vita e perché avevo il portatile e quindi appunto ma in un desktop la tastiera oppure prendete una tastiera col tastierino insomma fate fate un po voi però ecco per poter agevolarvi l'inserimento dati perché questo è un arduo compito di attenzione naturalmente se non abbiamo altri metodi lo dobbiamo fare a mano quindi magari qualcuno che può addettare e voi che lo inserite e magari ogni tanto vi fermate per fare un check faccio un esempio magari nel foglio finisce la domanda 12 finisce il primo foglio voi vi fermate la domanda 12 e verificate che il la risposta che vi ha dettato il collega è quella che avete inserito mi spiego meglio magari vado a vedere ecco una scala likert questo è un esempio a cinque punti ecco questo è per esempio il caso del big five cioè se noi abbiamo una scala con cinque punti noi dobbiamo inserire i numeri che ci dice l'autore se l'autore vada se i punteggi vanno da 0 a 5 o da 0 a 4 o da 1 a 3 dobbiamo inserire più possibile mantenere fedele l'inserimento dati originale perché poi faremo le modifiche che ci interessano cioè le l'elaborazioni si fanno dopo il calcolo dei punteggi si fa dopo si fa con spss che permette di fare le cose in maniera pulita di controllare eventuali errori quindi vi consiglio di utilizzare ecco cominciamo anche a imparare questo termine inserimento dati grezzi ecco qua ce lo possiamo anche scrivere cioè i dati grezzi sono i dati esiste cioè così come sono i dati presi proprio dal questionario in questo modo noi avremo una matrice originale che possiamo sempre andare a controllare a verificare l'unica cosa che possiamo fare come vi ho detto è andare a codificare sempre documentando le informazioni per semplificare anche l'inserimento quindi qua se il questionario lì che è per nulla mai raramente ecco come questo qualche volta spesso sempre vi consiglio vivamente anzi vi ordino di non inserire mai raramente qualche volta spesso ma di mettere numeri naturalmente ripeto non vi fa fasciate la testa temi invertiti punteggio da invertire calcoli da fare meno 5 meno uno assolutamente no perché voi doveste avere un file pulito originale dati dati grezzi sono un patrimonio dell'umanità diciamo così perché sono la vostra fonte di dati cioè voi il cartaceo una volta che avete verificato che i dati sono stati inseriti in maniera diciamo fedele all'originale il cartaceo potete archiviarlo e tenerlo diciamo per magari d'inverno se avete un camionetto per accendere il fuoco no scherzo ecco vabbè lo tenete in archivio però ovviamente e fatevi tante copie del digitale però è se fate questo ovviamente dicevo il cartaceo non dovete più andarlo a vedere se siete bravi inserire i dati con ordine magari ci mettete più tempo ma siete precisi se invece voi cominciate a fare operazioni manipolazioni sui dati non riuscite più a capire qual è il dato originale badate bene che questi sono errori che ho fatto nella mia diciamo stavo dicendo la mia adolescenza nella mia nel mio nel mio tirocinio anni 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 proprio di tirocinio di analisi dei dati insomma già prima di laurearmi insomma avevo questa attitudine quindi mi sono messa inserire i dati a seguire laureanti eccetera e poi a fare ricerca quindi feci anche io facevo delle eh delle degli errori perché perché magari ho detto vabbè faccio prima inverto i punteggi adesso vi spiego cosa sono gli ademba invertiti inverto il punteggio mentre lo inserisco così faccio prima e poi arriva qualcun altro o arrivo io che dopo un vuoto di memoria non ricordo più cosa ho fatto non riesco più a riconoscere se è il punteggio originale il punteggio invertito naturalmente poco le correlazioni si può capire però mai fare operazioni all'inizio cioè devono essere dati più possibile fedeli all'originale eh almeno tre copie virtuali sì serve eh anche per i rossi che certo certo per i rossi per i rossi che ci sono delle delle griglie di inserimento naturalmente anche quello anche perché poi anche lì ci sono dei calcoli in seconda del metodo utilizzate il metodo ex in particolare ci sono molti calcoli percentuali ma io rossi che ho un foglio di inserimento inserisco le risposte anche per tenermi poi per fare una relazione che poi oggi si si fa al computer e allora quindi a siamo arrivati allo strumento eh agli strumenti psicologici quindi avremo una serie di domande diverse l'una dall'altra potremo avere risposta l'ikert appunto come questa no dove è facile giusto come vi dice l'autore voi fate da 0 a 3 da 0 a 5 da 1 a 6 e inserite le risposte con i numeri vi consiglio ecco qui una conoscenza di excel un po più approfondita non sarebbe male vi sarebbe di aiuto di inserire delle convalide dei dati cosa sono adesso qui nel foglio di lavoro di google sheet si può fare le convalide di dati sono sono comunque dei controlli dei dati cosa vuol dire che voi dite al vostro foglio excel che voi non potete che i dati non possono essere al di fuori di quei valori cioè se il questionario risposte da 1 a 5 poi gli dite al vostro foglio di lavoro che le risposte possono essere 1 2 3 4 e 5 non altre quindi questa cosa vi aiuta a non fare errori poi si può fare uno screening dei dati per controllare questo però anche questo mi è capitato che magari sbagliando ho inserito qua ho 22 perché magari non sono andata con la freccetta nell'altra cella oppure non ho premuto invio ecco pure quasi è possibile se siete in grado di farlo vi consiglio di dato che sono in orizzontale e vabbè a meno che non volete farlo in verticale poi trasporli vi consiglio di modificare la funzionalità di excel di base che all'invio vi manda a capo io facevo cioè questo mi facilitava se voi conoscete excel sappiate che quando premete invio excel va in questo caso non lo fa perché siamo su google sheet ma va a capo va sotto invece potete semplicemente dare il comando excel nella funzione che con invio si sposta a destra quindi così mettete due invio uno invio cioè questo deve essere un po l'automatismo che come vi dicevo un pochino dice ma io volevo fare lo psicologo eh vabbè comunque insomma anche questo fa parte una volta terminato l'inserimento dei dati magari potete ecco parliamo un attimo delle colonne il nome delle colonne allora vi dico una cosa importante proprio questo lo ritrovate anche negli appunti le colonne per spss perché su questo che stiamo poi andando noi non vuole che diamo lo personificano lo chiamiamo lui non vuole che le colonne inizino con un numero quindi troppe volte ho dovuto ci siamo insomma trovati in un foglio di spss dove tutte le variabili che noi avevamo nominato avevamo dato un nome molto accuratamente andiamo su spss lui fa v1 v2 v3 bussa per variabile quindi ci resetta tutti i nomi delle variabili noi ovviamente c'è un modo per importarle in modo più semplice però ci troviamo insomma un po spesati quindi mettete sempre il consiglio nomi brevi delle colonne perché comunque poi sono vengono colonne lunghissime anche poco leggibili mettete il nome del questionario la sigla vedete qui io metto sempre underscore 1 underscore 2 sapete perché se voi finite con il numero dell'item anche perché è importante mantenere il numero dell'item perché poi vi servirà per il calcolo dei punteggi se voi con excel e anche con open office avete una colonna di questo tipo vedete che finisce con un numero e poi la trascinate lui capisce capirà perché è intelligente che sono dei numeri e vi va automaticamente a aumentare la serie crea una serie quindi questo può essere utile per non iscrivere tutto a mano attenzione che questi nomi poi voi potete utilizzare nei prossimi incontri vedremo che cos'è la sintassi giusto un attimino perché può servire li potete utilizzare facilmente magari rifare delle analisi che avete lanciato e volete magari avete aggiunto dei soggetti volete fare dei controlli quindi dei nomi devono essere brevi esplicativi potete anche non mettere l'underscore insomma fare una cosa di questo tipo però magari è meno leggibile un underscore ci sta sempre quindi non devono essere nomi identici perché il programma quale che le colonne sono veramente delle variabili quindi devono essere tutte diverse quindi un'altra cosa se voi avete madre e padre ok ci sono anche dei dei casi in cui avete madre e padre magari avete età della madre da del padre ecco non potete mettere età ed a parte pure per voi non capite più magari lo capite perché sta a fianco al padre a fianco alla madre quindi sarebbe meglio mettere età madre evitate da m perché può sembrare da maschi da femmina anche se vabbè controintuitivo ed a padre ok cioè fate due colonne e cercate di rendere ogni colonna ogni nome delle etichette delle delle colonne i nomi delle variabili univo cioè molto chiare brevi e univo che ok e non iniziare con un numero perché poi se pss la fa pagare ecco questo è diciamo l'inserimento dei dati mettiamo che voi avete tanti strumenti si mettono uno dopo l'altro abbiamo detto una colonna per ogni informazione quindi andiamo proseguiamo proseguiamo ho dei file di alcune ricerche che hanno tantissime colonne ecco questo può essere a volte un problema perché excel almeno quello precedente ha dei limiti sulla gestione del numero di colonne ecco pure questo va gestito magari si possono fare anche dei fogli di lavoro separati poi con spss ci mettono insieme ok e qui a un certo punto mi sembra che è un attimo che io con lo zoom con il 100 per cento così e mi sembra che qui oltre bfq ci sia un altro strumento che è aspettate il matrici di raven eccolo qua no non vuole non vuole ho deciso di no di non farvi vedere l'ultimo pezzetto comunque c'è un fo una variabile no però ci tenevo vediamo un pochino se possiamo ok faccio un attimo di ricaricamento allora se abbiamo dei questionari ovviamente di performance dove c'è un punteggio da trasportare c'è un punteggio finale ovviamente lì non è che possiamo cioè dovremmo inserire ecco qua il punteggio finale ecco qui non so se si vede c'è l'ultima colonna c'è scritto raven questo è il punteggio delle risposte corrette alle matrici di raven che è un test di intelligenza non verbale questo ovviamente erano le matrici per i bambini e quindi in questo caso non possiamo far altro che riportare il punteggio ok benissimo qualcuno commenta anche sul gruppo ok quindi spero sia chiaro ora proseguendo diciamo ora ci fermiamo a questi a questi dati che non sono tantissimi anche perché è meglio iniziare con un file più semplice ora ci spostiamo su spss voglio dire una cosa su l'acquisizione dei dati prima ho detto che appunto i dati possono essere anche acquisiti digitalmente e in questo caso ad esempio uno strumento molto utile è google form ho pubblicato un tutorial su come si creano i google form ecco qui non abbiamo il tempo perché soliamo poi dall'argomento però appunto magari poi vi metto il link il google form è gratuito permette di inserire appunto i questionari anche psicologici a mio parere diciamo è sicuro piuttosto sicuro perché poi se avete una password comunque i dati sono protetti protetti e quindi potete riportare utilizzare google form in formato facendo compilare i dati in formato digitale poi ci sono tantissimi altri strumenti da inquisit per fare gli esperimenti a Limeware serve manche ce ne sono tantissimi ovviamente dipende dalla vostra esigenza magari possiamo fare anche un incontro sui vari strumenti per somministrare i questionari online e che cosa succede con un google form vi mostro questa cosa perché è importante visto che insomma è proprio veramente uno strumento alla portata di tutti ci sono le esposte in un foglio un foglio di lavoro quindi in realtà vedete qua c'è il link si possono scaricare in csv che è un formato excel formato i dati flat si chiamano in csv oppure si possono aprire in un foglio di lavoro che è tipo il foglio che avete visto poco fa inoltre google form se proprio vogliamo insomma essere accettare anche questa cosa non è male perché ci sono delle dei piccoli grafici già pronti possiamo considerarle delle descrittive perché non è che ci sono poi delle correlazioni o dei dati più interessanti però comunque possono essere utili soprattutto per le variabili socialnagrafiche no? cioè guardate questo questo è un grafico già pronto e quindi comunque è interessante è già fatto non bisogna fare nulla e quindi possono essere anche degli screening veloci qui vedete vi dice il numero di risposte poi magari affrontiamo eventualmente delle potenzialità di google form quindi mettiamo che noi abbiamo un foglio di lavoro di questo tipo riempito qui abbiamo 30 soggetti perché sono 31 vedete 31 righe ma c'è le intestazioni quindi sono 30 soggetti ora noi dobbiamo portare questo foglio dentro il programma per fare analisi dei dati in questo caso è SPSS ci sono ecco se c'è persone in sala d'attesa ok un'altra precisazione allora noi adesso stiamo parlando di variabili in realtà quantitative se avessimo un questionario risposte aperte in cui chiediamo per esempio cosa ne pensi di questo prodotto? cosa ne pensi di questo argomento? noi avremo una serie di testi no? a seconda anche delle narrative potremmo avere su degli strumenti psicologici allora come possiamo inserire quei dati? in realtà se vogliamo fare un'analisi del testo bisogna avere degli strumenti appositi se vogliamo invece utilizzare degli analisi diciamo del testo un po' più quantitative in realtà ci vuole un lavoro precedente di analisi di queste frasi di questi testi che sono stati inseriti e magari si possono o inserire direttamente in Excel oppure e poi categorizzare in seguito oppure addirittura categorizzare cioè faccio un esempio ci sono degli strumenti psicologici che lo fanno molto oppure categorizzarli in base a dei criteri che mettiamo noi ecco questo può avvenire spesso quando abbiamo delle domande aperte quindi comunque anche queste andrebbero inserite e poi in SPSS vediamo come vengono visualizzate allora adesso vi voglio far vedere intanto apro SPSS poi vi ho messo un link per scaricarvi la trial che adesso non ricordo quanto dura però non è proprio insomma lunghissima però insomma per ora professoressa io ho sbagliato l'ho scaricato ieri quindi sì quanto dura? un mesetto ah mica poco un mesetto no vabbè volendo sapete queste trial sono legate o al computer o magari al nome che inserite per registrarvi quindi magari potreste fare un'altra registrazione probabilmente utilizzarla per un ulteriore mese vorrei capire cosa succede dopo un mese cioè se non si può proprio aprire il programma o magari le funzionalità sono ridotte no ve lo dico perché sono cambiate le cose da quando SPSS è passato in IBM cioè è stata acquisita IBM mi scusi mi scusi sono Lucia Fracassi io ho letto anche io tentavo di iscrivermi poi insomma ho sospeso ma ho letto che per il covid il 19 avrebbero prorogato la disponibilità fino a auto cioè fino all'autunno mi sembra di aver letto bellissimo però non sono sicura cioè mi sembra di aver letto questa cosa era in inglese e quindi ho detto beh aspettiamo un attimo e vediamo prima di imparare poi però può essere che ci sia questa opportunità sì sì allora questo poi ci informiamo perché questa è una cosa dell'ultimo momento ovviamente se voi fate parte di un'università di un gruppo di ricerca o avete un professore di riferimento l'università di solito acquista magari più licenze e può darvi la possibilità di utilizzare il software io per esempio quando stavo dentro la Sapienza per tutti gli studenti della Sapienza era gratuito ma la Sapienza ovviamente è molto grande quindi aveva la possibilità di scaricare la licenza gratuita però solo se avevi la mail e ti accedevi con la mail dell'Ateneo però magari ecco mi chiedi un nettuno magari con dei laboratori e i dottorandi penso che ce l'hanno a disposizione però comunque ecco ci sono magari dei metodi cercate anche online se esistono delle versioni di prova perché tempo fa c'era proprio avevo tanto tempo fa qualche anno fa proprio la versione di prova magari un po' più magari non è l'ultima versione ma funziona io ho una versione 13 che ogni tanto la uso cioè per dire siamo arrivati alla 26 mi sembra no? e non è cioè voglio dire la 13 funziona benissimo cioè non dobbiamo fare analisi particolarmente elaborate e c'era Valerio il mio collega aveva una curiosità gruppo 1 include i due soggetti di scuola media perché hanno compiato una specifica data di somministrazione no erano gruppo 1 gruppo 2 si riferisce al file che avete visto prima erano due gruppi diversi perché avevano avuto dei trattamenti diversi quindi comunque c'era questa definizione certo nel file non c'era l'etichetta quindi la domanda è lecita due date no non farei due gruppi per due date insomma il gruppo è una variabile indipendente ecco un'altra cosa forse da sottolineare è importante anche se insomma bisogna ripassare come dicevo i contenuti di statistica però le variabili si dividono in variabili dipendenti e indipendenti sicuramente le misure di questionari psicologici sono variabili dipendenti nella maggior parte dei casi quindi variabili che lo sperimentatore manipola utilizza poi per fare dei confronti delle relazioni per vedere se ci sono delle differenze significative le variabili socio-anagrafiche spesso sono variabili cioè perché non sono manipolate dallo sperimentatore cioè io non posso cambiare il genere di un soggetto o l'età e quindi sono variabili che spesso vengono utilizzate come variabili indipendenti non ne vedo un altro utilizzo e quindi possono essere utilizzate come variabili di gruppo cioè io separo gruppi genere maschio-femmina oppure età giovani meno giovani più grandi di età oppure classe classe quarta classe prima oppure scuola cioè sono tutte variabili che utilizzo come appunto variabili di ricerca indipendenti dove posso creare dei gruppi ma posso usarli anche come predittori di una regressione ma anche come variabili magari di controllo di confronto co variate e così via quindi sono tutte variabili di questo tipo ecco perché è importante anche mettere dei codici perché poi nel programma indicheremo dei codici poi siete impazienti è vero adesso apriamo subito il programma ecco io ce l'ho versione Mac ma è uguale è uguale per voi allora un attimo prima volevo farvi vedere vi volevo condividere con voi questi slide per dirvi due cose sul programma poi andiamo sul programma stesso perché il corso è pratico le lezioni sono molto pratiche quindi non insomma non voglio riempirvi di cose grafici di cose teoriche ma soprattutto andiamo nella pratica poi questi ve li mando ve li potete leggere sono tratti comunque da un corso che facevo la sapienza allora quindi che cosa fa il programma SPSS perché altrimenti di cosa stiamo parlando allora SPSS è un programma che legge i file scrive modifica i dati mi prendo il puntatore scrive modifica i dati e quindi ha la finestra di editor dei dati dove si possono analizzare appunto tutti i dati che noi inseriamo dentro poi ci sono invece c'è la possibilità di fare questo accesso ai dati e questa analisi dei dati anche con della sintassi che è un linguaggio abbastanza semplice di SPSS tipico di SPSS che c'è la fortuna che una volta che voi effettuate con l'interfaccia che si può dire friendly le analisi dei dati voi avete sempre la sintassi corrispondente a quel comando che voi avete dato cioè il programma ve la salva nell'output e quindi potete poi riprenderla e utilizzarla non dovete scriverla a mano basta solo capire poi faremo una lezione dove parleremo anche della sintassi poi c'è il menu analizza che è il menu principale dove si effettua un'analisi dei dati che appunto come vedete si può fare sia attraverso il menu che la finestra di sintassi e poi c'è anche un visualizzatore che contiene gli output quindi sostanzialmente il programma prende al file dati che poi vedremo variabili e dati una serie di funzioni piuttosto avanzate e complesse da quelle più base a quelle più complesse per fare analisi e poi fa la visualizzazione dei risultati degli output naturalmente come programma di visualizzazione quindi di data viewer di output possiamo dire come visualizzazione di grafici non è proprio avanzatissimo ci sono tante possibilità ma ne conosco altri un po' più che offrono un po' più a livello grafico un po' più di funzionalità io utilizzo per esempio strumenti di business intelligence vabbè qui siamo nell'ambito di data science molto più complessi tipo Power BI Oracle BI o anche business object cioè ne sono tanti che fanno ovviamente sono fatti per creare proprio delle dashboard con dei risultati che sono poi visibili e rimangono dentro il programma invece SPSS è fatto poi per creare dei report che vengono poi esportati vengono poi utilizzati ovviamente è sempre più avanzato questo non sto dicendo che non è adatto per fare questo però rimarrete un po' poco poco contenti magari dei grafici che sono comunque belli ma altri programmi anche un tableau non so se lo conoscete è un proprio crea dashboard interattive e così via però è molto cioè è un programma è una piattaforma per fare analisi dei dati principalmente soprattutto per analisi dei dati che per le visualizzazioni vediamo ecco andiamo nel programma queste slide riguardano la versione precedente vedete che la grafica è un po' cambiata quindi andiamo nel programma adesso ci andiamo intanto vi faccio vedere come la visualizzazione avete visto Excel foglio di lavoro Excel number open office sono i dati sono visualizzati allo stesso modo una riga per ogni soggetto colonne con le variabili quindi quello che abbiamo visto poco fa lo riportiamo lo rivedremo nel programma però il programma ha qualcosina in più adesso lo andiamo a vedere allora condivido lo schermo allora questo è il programma vuoto si inizia da qui anche se quando iniziate dopo che avete installato il programma c'è una un wizard che vi chiede cosa volete fare se volete aprire i dati se volete analizzare se volete creare un file di dati quindi all'inizio diciamo che vi crea delle cose ma noi partiamo dal file grezzo così ok dal programma vuoto vi faccio notare qualcosa sull'interfaccia quindi guardiamo prima l'interfaccia abbiamo un menu in alto che è questo file modifica visualizza dati vedete io ce l'ho in italiano ma se ce l'avete in inglese non vi turbate perché a volte le traduzioni in italiano sono pessime quindi vi consiglio spesso l'inglese non so criticando i traduttori ma spesso a volte ci sono delle analisi un po' particolari tradotte male e poi c'è una barra degli strumenti vedete questa che è anche mobile perché si può anche spostare e che è una barra dove ci sono delle icone che cambiano a seconda di dove ci troviamo tipico no? dei vari programmi dei vari software quindi menu in alto barra degli strumenti e parte centrale che cambia a seconda di dove siamo questo è il file il foglio di lavoro chiamiamolo così dove ci sono i dati dove ci dovrebbero essere i dati adesso è vuoto e adesso proviamo a fare un import dei dati per vedere come si possono inserire dentro il programma però vi dico che nel mio caso ho provato già sarà un problema del Mac ma non mi importa Excel però vi faccio vedere come si fa allora intanto menu file dal menu file si parte tutto perché qui dobbiamo o aprire dei file già creati oppure importare dei dati quindi vedete qui abbiamo nuovo i file di SPSS come vi dicevo prima no? l'abbiamo visto nelle slide sono possiamo suddividerli in ci sono anche gli script perché c'è anche l'integrazione con Python in questa mia versione ma non ci serve i file sono fondamentalmente file di dati abbiamo detto che SPSS utilizza i file dati per fare analisi e i file di output vedete? ma anche sintassi allora i file dati sono hanno un'estensione .sav si è tolto la condizione un'estensione .sav oppure .por per i file port adesso lo vedremo quando iniziamo a creare un file dati quindi ogni file ha una propria estensione fra poco vedremo anche come viene visualizzato un file output però si parte dal file dati allora nuovo file dati non vedo proprio la barra devo proprio interrompere scusi perché non vedo proprio sopra non so se dipende da me o da lei non vedo proprio io vedo solo le colonne io lo vedo correttamente allora dipende da me grazie 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 ok no vabbè fate bene a fare diciamo avvisatemi se c'è qualcosa che non va questo menu nel mio caso questo è il mac va in scomparsa non so se forse lo posso modificare questa funzione vedete io quando esco fuori scompare il menu principale però se ci vado sopra ecco qui ovviamente potete vedere la licenza le preferenze poi magari li vedremo sono interessanti le preferenze su come visualizzare i dati se in ordine alfabetico gli output alla lingua ecco qui quindi poi ci andiamo però adesso non possiamo cioè se noi ci mettiamo a vedere tutto il programma non vediamo niente poi di pratico invece dicevo il punto di partenza è o aprire un file dati e quindi nuovo file dati questo che vedete oppure aprire aprire scusate creare un file dati nuovo oppure aprire un file dati già pronto vedete che c'è anche dati internet si possono aprire dati adesso vediamo da vari fonti anche da file che sono online questo serve per i database per esempio dati che si aggiornano e poi importare i dati ecco iniziamo a vedere l'importare dati perché naturalmente è la come dire l'opzione più più comune per iniziare perché voi avete i dati da qualche parte abbiamo detto utilizziamo un foglio di lavoro simile a Excel per impostarli adesso li dobbiamo portare dentro allora vedete che c'è la possibilità di collegarsi a una database facendo delle query SQL quindi questo è potentissimo Excel CSV CSV sono file universali poi dati testo quindi testo si intende appunto TXT SAS che è un altro software dove può succedere di dover passare da SAS a SPSS è stata che è un altro software di analisi statistiche di base database di un altro tipo Lotus eccetera eccetera quindi vabbè noi comunque io penso che il caso più comune che vi potrebbe capitare è o un CSV perché magari avete utilizzato un software che vi esporta il CSV oppure un un Excel io in questo caso provo con l'Excel quindi andiamo a importare i dati passaggio numero uno in questo caso cosa succede? che io ho il file Excel scaricato da online ecco se sto su Google adesso ci rivado un attimino perché volevo darvi questo passaggio visto che vi ho come dire sponsorizzato Google Cloud insomma il Google Sheet poi magari risulta un po' più difficile dice ma adesso come faccio dal cloud a passare al SPSS non vi consiglio di mettere il link perché è protetto eccetera vi consiglio di fare scarica potete scaricarlo in Excel non ti posso aiutare ma cerco di preparare un giorno Excel è il mio telefono potete scaricarlo in Excel o in CSV o in CSV sono i valori delimitati da tabulazioni scelto il PDF non vi aiuterà quindi o OpenOffice ODS quindi scaricate il foglio di lavoro in Excel io non ho Excel quindi insomma spero che non mi faccia problemi e andiamo io di solito ecco il foglio pulito lo chiamo per SPSS perché magari cerco anche di controllare degli errori avete visto prima ho detto le convalità dei dati però si può fare anche dentro il programma do l'ok clicco su salva e mi scarico sul mio computer il file dal Google Sheet vedete questo è un Google Sheet e diventa un Excel una volta che ho l'Excel posso decidere se portarlo su su SPSS quindi ritorno nel programma SPSS mi devo ricordare dove l'ho salvato naturalmente perché mi chiederà di andarlo a cercare e quindi torno qua una cosa siamo abituati nel foglio Excel di avere più fogli di lavoro e quindi SPSS può leggere un foglio di lavoro per volta anche come apertura di file dati lui apre una finestra eventualmente ne apre un'altra ne apre un'altra ancora cioè i fogli data sette sono separati non è come Excel che avete i fogliettini di lavoro che sotto potete cliccare e passare da uno all'altro quindi dovete avere i dati su un unico foglio di lavoro potete avere un file Excel con più fogli di lavoro ma poi lui vi chiederà quale foglio di lavoro dovete volete ma vediamo se eccolo qua e allora una cosa importante quando aprite un file questo in tutti i programmi vi porterà voi atterrerete in questa situazione in cui SPSS vi chiede di aprire i file di SPSS perché noi stiamo facendo ho fatto importadati scusate li vediamo file importadati Excel ok se fate importadati Excel ve lo apre ma se fate magari un altro importadati o comunque badate bene che potete potete stare in questa situazione in cui cosa succede non trovate i vostri file cioè non vi appaiono nell'elenco perché perché voi gli state dicendo come se questo fosse un filtro no quindi tutti i file di tipo .sav vedete che sono i file di SPSS per eccellenza e quindi non troverete il vostro file Excel dovete stare attenti che nella tendina sia selezionato il file Excel vedete qua ci sono quei formati che dicevamo prima oppure mettete tutti i file e vi farà aprire tutti vi farà vedere tutti i dati cioè tutti i file scusate allora andiamo su per esempio quello che ci interessa clicchiamo su apri ecco a me da questo errore perché io ho purtroppo io penso che sia il fatto che non abbia l'Excel installato però se provate a farlo vi apparirà una schermata in cui vi chiede di scegliere se importare adesso lo facciamo con un CSV quindi sicuramente funziona adesso vi faccio vedere anche l'altra alternativa diciamo che SPSS vi chiede se volete importare i nomi delle variabili dalla prima riga e voi cosa li direte? sì perché ce li avete e poi vi chiederà di scegliere il foglio di lavoro da importare dato che è un foglio Excel allora adesso mi salvo un CSV così vi faccio vedere anche la la possibilità di di caricare un CSV valori separati da virgola ok vado di nuovo in SPSS eccoci qui foglio di lavoro vuoto quindi devo andare su file importadati e gli andiamo a dire questa volta dati CSV ma comunque gli potevo dire anche Excel e qua gli andiamo a dire CSV è la stessa cosa ok mi trova come vedete vi ripeto quello che abbiamo detto poco fa cioè se voi non scegliete il formato giusto non vi fa vedere il formato del file che vi interessa quindi o mettete tutti i file per stare sicuri oppure scegliete il formato che vi interessa quindi io scelgo CSV clicco sul CSV la codifica lasciate unicode UTF8 che è quella più standard e facciamo apri oh perfetto allora adesso ovviamente questo è interessante perché è importante in questa fase capire che cosa vi chiede il programma non andate avanti così senza senza pensare come se non ci fosse un domani a volte di cacca Anita perché altrimenti mi troverete delle cose un po' strane e poi insomma dovete rifare tutto da capo questo succede anche quando importate un CSV in Excel quindi più o meno quindi dice il formato di test è un formato predefinito sì o no in questo caso se dico sì però io adesso dico no vado avanti adesso ci chiederà scusa non stiamo apriendo la finestra non so se grazie Lucia aspetta ah no ok 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 no sai perché perché questa è una finestra ulteriore quindi ho condiviso solo la finestra di SPS adesso vedete tutto grazie Lucia allora quindi dicevo stavo in questa situazione anzi lo rifacciamo perché è importante questo è delicato magari lo so che voi vorreste subito fare delle analisi ma queste sono cose fondamentali perché se non si prepara il file bene allora abbiamo detto di leggere un file CSV lo rifaccio eh file importadati posso fare direttamente un CSV vado a cercare il file che mi interessa il file di tipo deve essere appunto CSV e non altri tipologie apri e lui mi apre una schermata di questo tipo allora prima era un wizard adesso insomma è comunque la stessa cosa vuole sapere se e questo ve lo chiederà anche quando importate un Excel se la prima riga contiene i nomi della variabile allora questa cosa è fondamentale se noi abbiamo fatto diciamo un una preparazione del file dati solitamente la prima riga contiene i nomi di variabili salvo rari casi e quindi dovete fregarlo altrimenti cosa farà SPSS vi metterà la prima riga come vuole lui e vi utilizzerà la prima riga che voi avete come dati quindi poi ci sarà anche un'importazione sbagliata non corretta del tipo di variabili poi rimuovi i spazi iniziali dal valore di stringa se ci sono ma io vi dico sempre mi raccomando fate bene il foglio iniziale di inserimento dati e non avrete problemi poi nell'importazione delimitatore dei valori ecco questo è fondamentale perché questo delimitatore di valori vi dice se vi darà la possibilità di leggere bene i dati cioè dà le indicazioni al programma di leggere bene i dati se vi ricordate nel mio caso c'era la virgola ma lo vedete anche da qua non so se riuscite a vederlo ma io vedo che ci sono le virgole potete anche aprire il csv tramite un blocco note un blocco appunto un wordpad un blocco note e vi accorgerete che c'è la virgola se io non do questa informazione corretta mi troverò dei file un file dati molto strano quindi virgola simbolo decimale ecco qui attenzione qui c'è un problema c'è un conflitto di interessi qua perché c'è la virgola del delimitatore e i decimali se io avessi dei numeri decimali come devo farli? ecco questo dovete pensarci prima se passate da un csv ma appunto magari nel vostro caso passerete da excel però bisogna dirle se è un period vuol dire in questo caso è punto o virgola e in questo caso io posso mettere ecco leviamo la virgola ma comunque lui riconoscerà come funziona il programma leggerà prima le variabili prima il nome l'intestazione e poi si ricava le colonne quindi non dovrebbe che era il problema anche perché noi non abbiamo numeri con la virgola noi abbiamo variabili discrete cioè abbiamo i punteggi avete visto di BFQ da 1 a 5 sono numeri interi e anche l'età non era con le virgole qualificatore di testo virgolette nessuno se abbiamo in questo caso metto nessuno dei testi delle stringhe si chiamano così quindi qui abbiamo elementare dobbiamo capire se dobbiamo dire al programma se sono virgolettati o meno va bene qui va bene memorizza dati in cache locale va bene questo insomma per salvare un po' la cache andiamo a fare l'ok allora adesso quando SPSS fa delle operazioni apre il file output per darci delle informazioni ok adesso poi lo vedremo il file output dovrebbe aver creato questo file vediamo un po' un attimo solo perché io ho più finestre forse no non me ne importa questa va beh eccolo l'ho trovato perché vedete io prima per farvi un esempio per farvi vedere non so se vedete ma penso di sì perché adesso vi ho condiviso tutto lo schermo voi vedete che cosa ha fatto il mio computer il mio programma ha creato più fogli di lavoro vedete che c'è questo senza titolo 2 guardate che confusione e questo senza il titolo 3 questo lo chiudo perché lui non permette di avere più fogli di lavoro nella stessa finestra ok ti metto a tutto schermo oh ecco vediamo come si presenta il file dati intanto notate che abbiamo righe e colonne in modo corretto quindi eventualmente se avete problemi con Excel il CSV non sbaglia mai sempre se voi lo settate correttamente sì certo lo vedremo anche in differita non si preoccupate allora quindi abbiamo dobbiamo adesso capire come è strutturato il file in maniera se è strutturato correttamente perché noi abbiamo importato i dati ma date che non vi ho fatto vedere l'alternativa è quella di inserire i dati direttamente su SPSS potrebbe essere un'idea cioè visto che dovete inserire in Excel non lo consiglio perché Excel magari a volte è un po' più come dire anche semplice no? magari SPSS già dovete combattere con le variabili molte cose non sono così semplici per esempio pure la convalida dei dati è un po' più difficile da impostare quindi magari quell'inserimento manuale che vi dicevo prima di fare con Excel come vedete l'ha letto a me sembra letto correttamente adesso andiamo a vedere però come lui ha interpretato le variabili vedete che le variabili sono le intestazioni sono variabili purtroppo non riesco a ingrandire qua abbiamo vari simboletti riuscite a vedere che qua abbiamo un simboletto che è una specie di righello sul contatore poi abbiamo qui sembrano dei sottoinsiemi su gruppo o anche su tutti i bfq e poi abbiamo un'altra icona purtroppo è un po' piccolino che è sono tre palline però con la lettera A allora le variabili si dividono in semplice quantitative e non quantitative ordinali numeriche quindi lui ha questa impostazione e ha letto le variabili ha interpretato i nostri dati e quindi lui ha dato per esempio al contatore il righello adesso andiamo a vedere dove si vedono queste cose ecco la prima grande novità fantastica di SPSS cioè noi siamo abituati con Excel dove abbiamo un foglio di lavoro e ci dobbiamo noi giostrare la tipologia di variabili invece SPSS se guardate qui in basso abbiamo due due tab vista dati vista variabile e che cosa vuol dire questa cosa? che tutti i programmi di analisi dei dati che lavorano come database hanno la possibilità di vedere le variabili e di lavorare sulle variabili a parte quindi adesso io cliccherò su vista variabile e adesso dimentichiamoci un attimo il file dati e andiamo a lavorare su un altro foglio possiamo dire così che declina tutte le variabili come sono fatte le etichette che vi dicevo prima quindi ricordiamoci queste iconcine che abbiamo visto qui e andiamo su vista variabile questa è la base andiamo su vista variabile ecco qua allora come vedete sembra un database simile a quello che abbiamo visto in realtà è rovesciato cioè noi abbiamo sulle righe abbiamo le variabili e sulle colonne abbiamo gli attributi di queste variabili allora iniziamo da contatore vedete non è più foglio dati cioè riga soggetti e colonne variabili è trasposto si dice cioè è rovesciato quindi noi adesso qui stiamo lavorando non sui dati ma sulle proprietà delle variabili cosa che è da fare prima di iniziare a fare l'analisi dei dati pure per capire dare le etichette prima abbiamo detto maschi e femmine a 0,1 ecco lo dobbiamo dire al programma in modo tale che quando noi faremo un'analisi un output il programma saprà che 0 è femmina e 1 è maschio oppure dobbiamo capire se le variabili sono state interpretate bene perché se noi vogliamo fare un punteggio con il bfq dobbiamo sommare i punteggi perché questo è un questionario no? abbiamo visto guardate un po' le variabili qui ci sono quelle anagrafiche vedete e sotto abbiamo le variabili invece del bfq fino a n n-50 in questo caso guardate quali sono le proprietà di queste variabili allora qui abbiamo delle colonne adesso le evidenziamo così prendiamo un colore un po' più chiaro ok allora andiamo nome del nome allora qui ci sono tutte le variabili in ordine con i nomi come vi dicevo prima seguendo i nostri accorgimenti SPSS è stato bravissimo perché siamo stati bravi noi però prima ha preso tutti i nomi delle variabili come dovevano essere beh complimenti questo è già una grande cosa ve lo dico quindi poi a casa vi darò degli esercizi se riuscite a fare questa cosa complimenti perché rimettersi poi a rinominare tutte le variabili è un po' un problema però vi do un trucco nel caso diciamo dovete intervenire qui questo funziona un pochino come Excel quindi io posso per esempio fare un copia e incolla per dire delle variabili di Excel se ci fossero degli errori e quindi posso utilizzare contro C contro V copia e incolla quello che che mi serve e intervenire in queste variabili e addirittura anche cambiando nome cioè io posso qua intervenire quindi sono editabili ovviamente se già è tutto pronto sono avvantaggiato quindi prima colonna nome delle variabili poi seconda colonna abbiamo il tipo ecco qui attenzione questo è molto importante perché se io vado a fare delle analisi dei dati e questo tipo non è non corrisponde a quello che mi serve e poi non posso fare le analisi cioè se io vado a fare delle differenze tra medie o dei calcoli SPSS mi farà vedere solo le variabili che lui considera come dei calcoli quindi non è non è diciamo la cosa che ci serve allora il tipo si può dividere in deriva proprio dall'input numerico virgola punto notazione ho cliccato semplicemente su tipo si è aperta questa finestra la vedete numerico virgola punto questo è proprio il tipo di dato non è la scala di misura la misura come vedete potete intuire nella penultima colonna dove c'è scritto misura questo è il tipo cioè se è una valuta se è una data qui c'è il tipo di input cioè il tipo di variabile è come in Excel quando avete un dato e potete mettere formato data formato valuta formato testo formato qualsiasi diciamo tipo di formato ecco naturalmente nel nostro caso non ha riconosciuto la data quindi noi se volessimo potremmo mettere data attenzione che però qua poi dobbiamo decidere qual è la data dobbiamo capire come è se è la data americana o italiana eccetera però penso che adesso ho messo tipo data andiamo a vedere se ha creato dei problemi no ecco come vedete qua l'ha messa correttamente quindi questo può essere un controllo che dobbiamo fare però la cosa più importante oltre ovviamente certo a controllare perché se bfq1 bfq2 vedete le variabili del bfq me le mette stringa ovviamente è un errore cioè se lui i numeretti che noi abbiamo inserito le risposte dei soggetti li prende come stringa stringa vuol dire carattere non possiamo poi farci delle operazioni quindi dobbiamo assicurarci questo però questo vi dico per esperienza che di solito a parte data e valuta insomma sono formati particolari di solito lui legge bene come vedete avete visto ha letto bene ha letto il gruppo numerico tutti i bfq sono numeri cioè se voi non avete dei caratteri strani cioè non vi siete sbagliati a inserire delle lettere dentro le variabili inserimento dati di bfq lui lo legge come numerico tranquillamente età pure vedete lo legge per numerico genere lo legge come numerico ed è corretto perché anche se sono simboli 0 1 noi lui interpreta che sono numerici saremo noi poi a dire che non sono delle scale quantitative poi ci sono larghezza qui vado un po' più avanti rapidamente abbiamo larghezza decimali queste sono cose di visualizzazione larghezza vuol dire la larghezza della colonna cioè in vista dati noi abbiamo la larghezza e quindi questo vi dico se avete per esempio delle come dicevamo prima delle domande a risposta aperte oppure vedete qui c'è scuola dove c'è scritto elementare se la larghezza è piccolina voi non vedete la scritta vedete ci sono dei puntini qua quindi la larghezza senza che lo fate a mano può essere impostata da qui larghezza colonna infatti come ben vedete classe ha larghezza 5 mentre bfq ha larghezza 1 vuol dire che è un carattere cioè vi fa vedere un carattere normalmente questo è solo però di visualizzazione non dovete preoccuparvi non è che vi tronca il dato ritorniamo qua vista variabile decimali pure questo può essere una cosa importante etichetta e allora questa è interessante perché è l'etichetta che verrà mostrata nelle tabelle cioè può essere mostrata nelle tabelle se lo scegliamo poi quando vediamo le preferenze lo possiamo vedere e quindi alla fine noi abbiamo un attributo che potremmo mettere alla variabile ad esempio qui si può utilizzare un'etichetta soprattutto nelle variabili psicologiche che corrisponde un po' al contenuto della domanda perché abbiamo detto che noi utilizziamo un nome della variabile molto breve in realtà bfq1 non è che vuol dire nulla se io poi faccio una tabella di output dove metto bfq1 bfq2 vabbè in questo caso sono item però in realtà magari mi può far comodo e io lo consiglio sempre di mettere delle etichette perché perché queste etichette mi fanno capire che cosa vuol dire quell'item allora o mettete la domanda per esteso oppure potete mettere una sintesi per esempio qui possiamo mettere uscire con gli amici sto facendo un esempio completamente fittizio poi bfq2 potrebbe essere parlare molto i nervosizi eccetera eccetera in nervosizi quindi queste sono delle etichette che noi poi decidiamo sul comando preferenze se vogliamo mostrare nell'output etichette insieme al nome della variabile oppure solo etichette e così via possono essere utili ma anche per comprendere a volte delle analisi mentre le facciamo e questa è facoltativa valori ecco qui arriviamo a valori che è molto importante su valori noi abbiamo la possibilità di inserire quelle etichette che dicevo che più che le etichette si chiamano proprio categorizzazioni allora la prima cosa che dobbiamo fare ricordiamoci che abbiamo messo dei numeri al posto di maschio femmina ad esempio quindi la prima cosa da fare è andare a ricordarci queste etichette che avevo detto di metterle nei commenti Excel ora qui abbiamo la variabile genere guardate cosa succede se clicco su valori si apre etichette di valori io gli devo dire zero mi devo ricordare i numeri che ho messo zero etichetta abbiamo detto che è femmina oppure F se avete messo F e uno maschio ok e metto ok in questo caso avrò le etichette i valori codificati qua quando vado nel file dati guardate attenzione io mi è comparso femmina maschio qui abbiamo la possibilità di diciamo vedere anche le etichette in questo in questo file dati che può essere molto utile per passare per visualizzare o non visualizzare le etichette man mano vedremo anche cosa significano questi bottoni sopra e c'è questo simbolo qua questo in alto vedete che sembra nel vecchio SPSS era un'etichetta del prezzo sembrava un cartellino del prezzo qui dice passa dalle etichette ai numeri vedete qua quindi se noi clicchiamo su etichette dei valori vedete c'è il tooltip che si attiva il fumettino lo attivo e lo disattivo in questo modo magari può essere comodo vedere quali sono i valori oppure meno insomma o meno comodo comunque ecco questo si attiva pensate adesso non lo faccio perché ci vuole tempo però pensate a tutti i BFQ in cui io posso mettere perché poi ricordatevi sempre nell'output di fare meno sforzi possibili poi dopo vogliamo un output pronto che sia parlante non vogliamo tabelle con scritto 0 o 1 perché poi non sappiamo che cosa significa e dovremo modificarla a mano cioè questi programmi sono fatti per automatizzare il più possibile e fare il meno lavoro possibile anche per non fare errori perché tutte le cose fatte a mano possono essere soggetti a maggiori errori allora io sul BFQ potrei mettere 0 adesso non ricordo i formati di risposta assolutamente falso per me mi sembra ok erano da 1 a 5 non c'era 0? no mi sa che io mi ricordo che Barbara Nelli aveva fatto una volta anche 0 comunque oppure so io che voglio mettere 0 perché per me ha più senso mettere assolutamente falso che sia 0 comunque questa è una cosa poi ne parliamo assenza di quella caratteristica visto che è un continuum di personalità vabbè quindi 1 assolutamente falso 2 adesso non ricordo comunque facciamo finta abbastanza abbastanza vero eccetera eccetera quindi una volta che io che ho tutte le caratteristiche che io vado a inserire queste etichette poi faccio copia guardate badate bene no lo faccio con ctrl c devo fare copia da qua no però con la tastiera ctrl c o command c guardate che meraviglia oggi mi funziona ok incolla adesso si quindi io posso incollare e applicare a un a tutte le variabili le mie variabili queste etichette quando torno nel file dati ma anche soprattutto nell'output che potrebbe essere utile vedete c'è tutto codificato che poi se mi da fastidio lo tolgo cliccando sul tasto quello in alto abbiamo detto ok continuiamo completiamo la vista variabili e la cosa più diciamo importante un'altra cosa importante è la gestione dei dati mancanti magari lo possiamo approfondire nel prossimo appuntamento dove vediamo come fare l'analisi dei dati comunque i dati mancanti dovrebbero essere indicati cioè non vuol dire vuoto cioè non è che la cella vuota se abbiamo dei dati mancanti deve essere lasciata vuota ma ci sono dei codici che possono essere messi per i dati mancanti faccio un esempio su spss si usa mettere il 9 se abbiamo valori da 1 a 5 magari il 9 oppure se abbiamo valori più grandi il 99 si usano questi codici qui vuol dire che poi io dovrò mettere indico al programma alla piattaforma qual è il valore mancante se lasciate vuoto non succede nulla però è un problema perché se voi fate delle somme poi magari ci arriviamo quando iniziamo le descrittive se voi fate una somma ok e una somma di punteggi e poi un valore vuoto il programma non sa che quello è un dato mancante lo considera 0 quindi sarà un problema perché poi nelle somme potrebbero risultare delle delle diciamo delle imprecisioni perché quel valore non viene viene considerato come se fosse 0 un conto è 0 un conto è un dato mancante c'è una bella differenza inoltre se io faccio delle analisi dei dati a volte mi serve di escludere i dati mancanti o sostituirle con la media o fare delle operazioni di gestione dei dati mancanti questa è tutta una parte che insomma poi le affronteremo quindi il dato mancante serve a questo colonne anche questo è il numero di la larghezza anche questa delle colonne sì che può essere un po' più larga un po' più cioè questo è il numero di caratteri della variabile il numero di cifre che è alfanumerico e questo invece è proprio colonne allineamento questo è sempre di visualizzazione ma andiamo all'ultima la penultima colonna che è quella delle più importanti che è misura allora scala di misura quindi se noi clicchiamo su vedete su bello eh li trovate tutto anche qua scala ordinale nominale ovviamente scala vuol dire numerica quindi intervalli e rapporti non cambia nulla sappiamo che quello che cambia è lo zero assoluto ma in realtà a livello statistico possiamo fare le medie i calcoli e tutto e poi ordinale nominale perché noi possiamo dire alla piattaforma se è una scala ordinale nominale per esempio se è ordinale potremmo fare delle correlazioni di un certo tipo con Rodi Spearman se è nominale non possiamo fare le medie e anche se è ordinale quindi ci sono delle impostazioni che vanno messe ecco qui un errore che il programma ha fatto è di considerare questi BFQ come nominali e quindi questo va modificato va messo scala perché altrimenti non ci possiamo fare il calcolo dei punteggi di scale che va fatto tramite appunto il programma che permette di fare quelle cose molto molto velocemente quindi adesso io vado a mettere scala vado a fare un copia me lo dovrebbe fare ok e quindi vado a dirgli che devono essere tutte scale naturalmente le rave ne l'avevo già fatte naturalmente questo potrebbe anche non essere necessario se il programma ha capito bene ma insomma è il minimo vabbè ruolo questo è una parte diciamo di marketing ma anche di organizzazione dei file molto interessante che fa se pensi in questo momento insomma non è non è non serve allora torniamo a vista dati salviamo i file dati con un nome vedete che l'output è .sav che è universale è leggibile da tutti gli SPSS anche quelli più precedenti il problema della leggibilità semmai è sull'output non sui file dati fortunatamente e ci sono tre potrei dire tre possibilità dentro SPSS cioè di file nativi .sav che è appunto SPSS data poi c'è Z che sono dati compressi perché magari potrebbero esserci dei dati molto voluminosi quindi occupano meno spazio e poi c'è il POR che è portable che è un file che non consiglio mai di salvare come formato originale però si può fare una copia che può essere facilmente letto per esempio da altri programmi di statistica io li utilizzavo per fargli leggere un file un programma che si chiama Statistica di StatSoft dove facevo delle analisi che SPSS non faceva quindi insomma per dire POR è un file che contiene delle informazioni che non sono solo leggibili da SPSS comunque io vi consiglio di salvare il formato nativo SPSS nome file dati per elaborazione e siamo già alla fase 2 giusto? quindi lo salviamo vedete qua c'è la possibilità di selezionare le variabili ma in questo caso non ci interessa le selezioniamo tutte allora per oggi volevo un'ultima cosa così poi effettivamente sono già passati un po' di tempo però questo è fondamentale quindi abbiamo visto vista variabile vista dati ha un'ultima cosa da fare ecco quindi una volta che voi avete importato i dati avete verificato le scale i nomi e tutto è quella di fare uno screening iniziale dei dati cioè andare a vedere effettivamente se ci sono dei valori strani particolari degli outlier ma anche non so invece di due magari non avete fatto il controllo bene su Excel quindi qua avete un 22 oppure avete dei dati mancanti e potete fare ovviamente adesso poi nei prossimi incontri faremo tutto ciò che sta su analizza quindi ci divertiremo molto per fare analisi e nel mio caso insomma iniziamo da quelle più semplici però nel mio caso potremmo vederle insomma anche anche tutte e c'è la parte di statistiche descrittive e frequenze cioè vedete allora ritorniamo un po' a concludere un po' la panoramica del software abbiamo su file dove abbiamo importato i dati e la prossima volta voi farete apri non farete importa perché aprirete il file di .sav anzi ve lo chiudo così vedete vedete come si io lo salvato il file si lo chiudiamo così potete se volete a casa riprovare assolutamente riapro il programma lo riapriamo e andiamo ad aprire il file in molti casi non nel mio caso si può anche aprire il file cliccando due volte sul file dati cioè se voi cliccate due volte sul .sav vi apro automaticamente per i più fortunati spss nel mio caso non lo fa ma perché sto sempre sul mac che io adoro ma insomma non è che c'è tutto insomma non è che è tutto rose e fiori ecco questo è il programma si apre quindi voi fate file apri non fate più importa perché non è che ogni volta dovete importare i dati li avete pure lavorati insomma e quindi vi troverete il foglio di lavoro quindi vi consiglio cioè vi do poi vi do anche dei file dati su cui esercitarvi se non li avete si apre diciamo questo foglio bianco che mette un po' ansia però noi andiamo subito a fare apri dati dati per la elaborazione .sav e vi troverete sì vi troverete il file dati teoria eccolo qua ovviamente poi qua ci sono delle impostazioni poi controllo che cosa mi vuole dire comunque il file è stato aperto allora l'output non ve l'ho fatto vedere ma adesso faccio un'ultima cosa poi concludiamo dati scusate analizza statistiche descrittive allora sotto il menu analizza dicevamo quindi voi fino adesso dovete toccare solo file per portare dati aprirli e eventualmente fate nuovo dati inseriti a mano ma insomma potete provare poi andate su vista variabile vi divertite a sistemare le variabili e poi tutto il resto lo vediamo nei prossimi incontri però quello che dobbiamo vedere adesso è fare un'analisi di base per vedere che cosa c'è dentro questi dati allora nel menu analizza voi trovate tutte le analisi cioè noi abbiamo visto che c'è la cosa secondo me comoda anche semplice è che trovate tutto dentro il menu analizza su trasforma trovate delle ricodifiche e questo lo vedremo la prossima volta perché è la prima cosa da fare quando abbiamo i dati invertiti che a volte nei testi psicologici ci sono per evitare il response effect quindi dovremo riadrizzarli e dirlo al programma e anche per fare i calcoli cioè questo serve per fare i punteggi quindi il BFQ per esempio ha i punteggi delle varie 5 scale e quindi dei 5 fattori e dobbiamo quindi calcolarle da qua quindi sarà è molto semplice però su analizza intanto per soddisfare un po' anche la vostra curiosità statistiche descrittive allora se facciamo le frequenze vi accenno un po' che cosa succede sul menu analizza abbiamo e questo succede sempre diciamo in tutte le tipologie di analisi nella parte sinistra l'elenco delle variabili in ordine per cui in questo caso sono in ordine di file cioè come sono messe nel file e vi consiglio di lasciarle così perché di solito si mettono anche con un criterio tutti quelli di un questionario prima le anagrafiche poi quelli del questionario numero 1 poi quelli del questionario 2 quindi però potete ovviamente cambiare quest'ordine nelle preferenze del programma e poi a destra cioè al centro più che a destra avete il diciamo il contenitore delle variabili che ci volete mettere per poi analizzarle invece all'estrema destra avete delle opzioni quindi tutte le analisi sono sempre tutti i vari tipi di analisi hanno sinistra l'elenco delle variabili al centro le opzioni e c'è al centro le variabili che volete includere e a destra le opzioni questi sono tutti cliccabili e dentro avete delle specifiche se avete un'analisi multivariata dove magari ci sono variabili dipendenti indipendenti covariate eccetera avrete magari più box di questo tipo cioè all'interno dell'analisi avrete magari non solo un riquadro allora in questo caso noi scegliamo le variabili che ci interessano magari le possiamo anche selezionare tutte in questo caso anche se il contatore insomma mi sembra un po' inutile ma anche la data forse non sto facendo correlazioni sto facendo le frequenze per un controllo semplice dei dati come vedete qui io posso cliccare su statistiche e chiedere anche delle descrittive quindi degli indici di tendenza centrale indici di dispersione quindi volendo ma per ora posso anche non prendere perché ci sono anche possibilità di fare i grafici ma posso eventualmente proprio solo vedere cosa succede e volevo farvi vedere appunto in ultima l'ultima cosa questa sera questo che cosa succede quando noi lanciamo un'analisi si apre questo foglio output che vedete che è una finestra separata e in realtà c'è questo questo bottone che permette di andare alle analisi e all'output allora qui no finestra comunque si può si possono fare analisi anche da qui l'output è poi lo vediamo meglio perché la prossima volta iniziamo a fare proprio delle analisi è suddiviso in cartelle chiamiamole come le cartelle del computer vedete dove in questo caso noi possiamo navigare a sinistra nei vari nelle varie tabelle vedete che belle sono già formattate se non le abbiamo formattate bene possiamo vedete qui ci sono le etichette assolutamente falso per me è abbastanza vero se andiamo a vedere il genere non ne avremo 0-1 ma avremo maschio e femmina quindi lo abbiamo selezionato bene questo anche è il formato grafico è personalizzabile però noi abbiamo già uno screening di quanti sono i dati qui abbiamo statistiche nella prima tabella abbiamo tutte le frequenze vi fa vedere quanti sono i dati e quali sono i dati mancanti quindi qui potete fare un controllo qui si scorre in orizzontale e poi man mano avete le varie tabelle che navigando dall'una all'altra vi spostate anche a sinistra quindi potete navigare sia da qua che da qua poi qui poi vedremo si possono inserire dei commenti dei titoli cioè noi possiamo formattare questo output in modo tale che poi esportiamo il pdf e l'output è già diciamo fatto non dico poi per un per un articolo però in realtà potete mettere dei commenti potete inserire delle intestazioni dei testi potete mettere delle formattazioni di vario colore e questo è il primo screening un altro screening se volete su analizza vedete che ci sto andando dall'output non è necessario tornare nel file dati perché il menu è sempre quello analizza statistiche descrittive posso chiedere anche le descrittive e quindi qui come vedete le opzioni sono diverse ma in realtà c'è sempre a sinistra l'elenco delle variabili a destra il contenitore vuoto dove inserire le variabili da analizzare e poi queste opzioni che cambiano ovviamente in base all'analisi che facciamo quindi in questo caso noi possiamo fare delle descrittive e quindi servono variabili quantitative e guardate che qui vi fa vedere infatti le variabili anche etava modificata quindi noi possiamo mettere magari selezioniamo una serie di variabili ah guardate il formato di visualizzazione delle variabili dove abbiamo messo delle etichette sempre questo è personalizzabile vi fa vi mette lui uscire con gli amici parentesi quadra nome della variabile pure questo è personalizzabile però può essere utile per capire quell'item che cosa vuol dire ecco perché vi consiglio di mettere delle stringhe piccole cioè delle descrizioni piccole se no viene una cosa enorme però anche questo è personalizzabile una volta che abbiamo finito cioè che abbiamo scelto quello che ci serve lo selezioniamo faccio un esempio qua qui è possibile standardizzare ma questo lo approfondiamo adesso siamo già stanchi lo approfondiamo la prossima volta quindi con un click si standardizzano le variabili in base alle medie stesse delle variabili e poi qua possiamo chiedere di default ci sono fregati media di versione standard minimo massimo varianza se vogliamo ma insomma di versione standard va bene lo stesso cultose simmetria e eventualmente anche un ordine di visualizzazione andiamo a premere ok ci sono anche altre opzioni e abbiamo vedete l'output prima c'erano solo le frequenze ecco questa è una cosa che abbiamo fatto prima quindi l'output purtroppo per fortuna tiene traccia di tutto quello che facciamo quindi qua ci sono delle cose un po' antipatiche log ma in realtà questi si possono con doppio clic nascondere poi vi faccio vedere la prossima volta iniziamo proprio come lavorare sull'output perché altrimenti tutte queste brutture questa è la sintassia già per anticiparvi che la salva direttamente e servono quindi non sono da cancellare vi dice anche l'orario in cui avete effettuato le analisi dice diverse cose vedete insomma quello che avviene però in realtà il doppio clic lo nascondo poi vi lo faccio vedere la prossima volta e qui ecco qua le descrittive quindi in un attimo abbiamo abbiamo il minimo massimo media di versione standard e le variabili di quelle che ho selezionato vedete e ovviamente anche qui la versione standard tutto personalizzabile lo vediamo la prossima volta possiamo decidere se appunto un decimale due decimali la virgola il numero il rosso il grassetto e quello che vogliamo e ovviamente adesso sarete vi troverete un po' dice ma io devo fare il calcolo dei punteggi ecco questo non abbiamo fatto il tempo a vederlo ma non era in realtà in realtà se non sono mancano dieci minuti in realtà se avete necessità di lavorare sui dati vi faccio vedere il calcolo dei punteggi per chi può rimanere perché tanto sarà registrata questa questa riunione perché se voi volete fare delle analisi adesso vi trovate un po' spaisati perché avendo gli item sì le descrittive degli item sono utili ma normalmente si fanno poi le descrittive delle scale cioè perché noi dobbiamo sapere cioè se abbiamo 100 item che ci facciamo con 100 medie da osservare una per una sì ci passiamo il tempo ma in realtà quello che ci occorre è vedere le descrittive delle scale dei riassunti di questi item che con l'analisi fattoriale sono stati sono emersi durante la la validazione del questionario quindi per ultimo intanto vi dico che si può salvare l'output che io metto descrittive date sempre un nome altrimenti impazzite l'estensione dell'output è spv e attenzione che questi output sono un po' un po' antipatici perché se avete una versione successiva di spss con quella precedente può essere riuscita ad aprirlo quindi se per esempio un output io l'ho fatto con la 26 poi avete la 20 o la 19 magari non lo riuscite a leggere questo è un po' l'incompatibilità quindi è un po' antipatico però lo potete salvare comunque leggere con la stessa versione e poi si può esportare pure questo lo vediamo poi quindi descrittive analisi preliminari potremo fare insomma questo in questo caso lo salviamo e rimane aperto quindi ogni volta che voi fate analisi questo output si incrementa quindi vi consiglio per non impazzire di dividere gli output cioè dividere i file analisi descrittive analisi di regressione correlazione analisi fattoriale perché spesso magari vi troverete a fare le descrittive per maschi per femmine descrittive per età analisi fattoriale sul campione con matrice di covarianza ruotata non ruotata regressione con più variabili quindi io li divido sempre per argomento cioè per tipo di analisi non è sbagliato se volete se siete proprio super diciamo amanti delle cartelle potete utilizzare le cartelle qui non è un problema però poi anche esportarli quando voi fate un export poi dovete andare a selezionare quelle che volete io li divido poi ecco non è un must allora ritorniamo un attimo i dati perché volevo appunto dirvi che noi ci troveremo di fronte spesso a variabili psicologiche i cui punteggi vanno poi sommati per arrivare a un punteggio di scala o di fattore cioè i fattori che l'autore del test vi dice che devono essere poi utilizzati per misurare le variabili che vi interessano quindi nel caso del bfq dove abbiamo cinque fattori e quindi avremo delle variabili cioè gli item che vanno devono essere sommati per per i cinque fattori allora intanto vi apro un bfq perché altrimenti non riusciamo non è che li facciamo tutti vi faccio vedere un esempio però in realtà volevo aprire il bfq per almeno avere il questionario così almeno abbiamo un secondo abbiamo lo strumento per sapere almeno i punteggi da dove vanno come cambiano bfq eccolo qua quindi noi dovremmo avere a disposizione il manuale dello strumento la griglia di valutazione quello che ci fornisce l'autore per poter sapere come calcolare questi punteggi la griglia di calcolo i casi che sono i casi sono due o tutte le variabili sono in un verso come vi dicevo oppure le variabili sono alcune variabili sono invertite si dice così cioè vuol dire che se una variabile rispondo sì misuro per esempio l'estroversione nel caso del bfq se un altro item sempre di quella scala che è l'introversione è invertita perché magari una mi dice mi piace uscire con gli amici un'altra mi dice mi piace stare a casa da solo perché sto bene rispetto a uscire queste variabili se io rispondo sì a tutte e due in realtà sto misurando un comportamento opposto e questo si fa nei test psicologici per evitare appunto il respons effetto cioè il fatto che il soggetto risponda sempre sì 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 alle variabili alle domande che sono simili si fa proprio per far lavorare un po' e per per vedere anche la veridicità delle risposte sì la coerenza sì 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 la coerenza e anche volendo diciamo il sì anche per fare per evitare appunto che le risposte siano siano appunto nello stesso nello stesso modo aspettate che ecco qua allora ho preso quello per i bambini perché così abbiamo lo stesso poi vedo tutti questi materiali allora li condivido così facciamo prima tutto lo schermo allora questo è appunto questo è compilato dai genitori e comunque vedete che è più semplificato perché quello per i bambini il BFQC ha children ha delle risposte sono quasi mai poche volte qualche volta quasi sempre ok allora cosa succede noi avremo una griglia di punteggi qua non c'è ma comunque una griglia di punteggi noi sappiamo che l'item 1 corrisponde a un determinato fattore l'item 2 corrisponde a un altro fattore l'item 3 e così via quindi noi dobbiamo sommare questi punteggi questi item e però tenere presente se ci sono degli item contrastanti cioè appunto come vi dicevo invertiti quindi la prima operazione è ricodificare si dice così gli item tutti nello stesso verso che se noi facciamo correlazioni non ci interessa perché la correlazione verrà positiva negativa ma conta l'entità del coefficiente se noi invece avremo delle somme comprendete bene che se un item è opposta a un altro quando vi vado a sommare si annullano cioè vanno insomma per vie diverse e quindi dobbiamo prima di sommarli fare questa cosa allora piccola premessa io quando utilizzo questi questionari molto diffusi di solito ho una griglia di scoring già in Excel potrebbe essere un'alternativa cioè perché comunque a volte faccio magari dei profili mi viene chiesto di fare dei profili con delle narrative e quindi io non uso SPSS non sto facendo ricerca ma sto facendo delle valutazioni psicologiche quindi in quel caso se voi avete un file Excel che è sicuro diciamo costruito bene nel caso di BFQ io ce l'ho quindi se qualcuno sta facendo ricerca glielo vorrevo fornire non so se c'è Lorena Tosi c'è anche Giorgio qua insomma poi queste cose le facciamo sono due miei laureanti queste cose le faremo cioè con un file che è già predisposto quindi non andremo a fare a mano il calcolo dei punteggi con SPSS però in altri casi noi non abbiamo un file Excel già predisposto per lo scoring perché magari sono strumenti che abbiamo creato noi che stiamo validando oppure vogliamo fare delle analisi fattoriali e poi decidiamo di includere in alcuni fattori degli item e quindi in questo caso noi vediamo il caso in cui dobbiamo farle con SPSS altrimenti vi troverete già i punteggi grezzi mi raccomando dentro Excel e quindi importate anche quelli quindi ipotizziamo adesso non vado nello specifico ricondivido SPSS anzi ok ipotizziamo che abbiamo degli item da ricodificare quindi ipotizziamo che l'item 1 è da invertire quindi considerate che tutti gli item da invertire conviene farli nello stesso momento altrimenti succedono poi delle cose che non sono così sistematiche quindi questa funzionalità si chiama ricodifica in inglese ricode ci sono due possibilità di ricodificare sopra quindi sovrascrivere le variabili originali o creare delle variabili differenti io secondo voi quale scelgo la seconda perché ritengo che bisogna fare modifiche non distruttive cioè bisogna sempre mantenere il file originale qualora servisse di fare un controllo quindi consiglio questa questa seconda soluzione quindi io scelgo ricode in different variables se lo avete in inglese o ricodifica in variabili differenti cosa devo fare siamo sempre nella stessa ormai lo vedrete più spesso sempre così cioè avete a sinistra le variabili e a destra abbiamo cioè il centro che cosa dobbiamo fare allora vado a prendere la variabile 1 mettiamo che anche ci sia anche la 6 la 10 voi mi dite ma come faccio a sapere quali sono da ricodificare a parte che si capisce si vede dalle correlazioni però in realtà il manuale del test abbiamo detto che deve essere la nostra guida anche perché non possiamo sapere noi a prescindere cioè a priori quale variabile va in quale item costituiscono i fattori quindi dobbiamo affidarci al manuale del test a meno che il test non abbiamo creato noi quindi l'esplorativo allora vedete che qua vi dice bfq1 come diventa? allora io sto su bfq1 e gli devo dire il nome perché? perché sto facendo una ricodifica di variabili diverse cioè lui mi creerà delle variabili nuove a fianco a quelle che già ho in modo tale che mantengo quella originale quindi faccio io mantengo sempre il nome originale e di solito questo è il buon mio prof San Martini Pietro San Martini un grande maestro per me mi è sempre insegnato di mettere una piccola etichetta punto R cioè ricodificate punto R vuol dire ricodano ok? quindi vuol dire che io troverò questa variabile con questa etichetta finale questa lettera finale e mi posso mettere anche R e basta però il punto me lo rende più leggibile in realtà se volessi essere proprio più brava più precisa nelle variabili originali potrei mettere un punto I che vuol dire invertito così non me li devo andare a cercare cioè lo so già quindi magari nel nome delle variabili potrei anche mettere invertito e poi queste invertite le vado a selezionare e vado a trasformarle in punto R l'etichetta è quel nome lungo che abbiamo visto prima quindi io la lascio in questo caso la lascio così e poi c'è valori vecchi e valori nuovi clicco su valori vecchi e valori nuovi allora per invertire vi ricordate prima come è fatto il questionario abbiamo 1 2 3 4 5 se devo rovesciare un item io devo dire che ecco questo Excel è un po' complicato perché se lo fate in più riprese vi trovate a fare un pasticcio allora dovete mettere che il valore 1 corrisponde a 5 guardate come si mette qua vecchio valore nuovo valore e poi si fa aggiungi poi il valore 2 corrisponde a 4 valore 3 corrisponde a 3 valore 4 corrisponde a 5 beh sì a 2 valore 5 corrisponde a 1 a 1 vi è chiaro questo? allora un controllo che potete fare è vedere se ops cliccando sul tasto sbagliato vedere se i numeri vanno in maniera invertita cioè se uno è in senso decrescente e uno in senso crescente quindi vedete che il primo la prima colonna fa 1 2 3 4 5 la seconda è 5 4 3 2 1 naturalmente se è dispari troverete un valore centrale che è identico 3 corrisponde a 3 se non è dispari no quindi non è un caso diciamo questo che deve essere preso per buono cioè nel senso è un esempio e poi eventualmente se avete i mancanti di sistema che vi ricordate l'abbiamo potuti condificare in qualche altro modo posso dire mancante di sistema mancante di sistema vedete che se PSS lo codifica cioè questo lo potete aggiungere nel caso in cui volete che lui mantenga nella variabile nuova anche i dati mancanti così come sono interpretati basta abbiamo finito ci sono altre diciamo ecco tutti gli altri valori per esempio c'è un'altra opzione potete dirgli di prendere un altro cioè non so potete anche addirittura queste ricodifiche non vengono fatte solo quando abbiamo gli atemi invertiti ma anche se vogliamo per esempio ridurre le risposte di alcune variabili magari sono da 1 a 5 li vogliamo far diventare da 1 a 3 oppure vogliamo fare delle classi cioè lo possiamo fare in realtà anche per altri casi quindi andiamo a dare vedete qui questo è l'importante verificate che sia corretto continua che ho fatto ah no perché avevo dato un altro va bene quindi continua perfetto li vado un po' a controllare tutto a posto ok questo me lo applica a tutti però vedete che il tasto ok non è cliccabile perché perché non ho dato il nome alle altre variabili quindi il bfq1 che ho fatto adesso ho tolto vabbè il bfq1 abbiamo detto che l'abbiamo chiamato bfq1.r la stessa cosa dobbiamo fare con le altre quindi bfq10.r mi raccomando mantenete una tracciabilità dell'item perché se no se cambiate numero e poi dopo cioè diventa una cosa veramente impossibile ok quindi adesso ah ok ecco che ho fatto ho dimenticato di cliccare scusatemi su modifica quindi non l'ha presa lo ripaccio vabbè almeno ripassiamo dovevo cliccare su modifica per dare diciamo l'ok la variabile io questa cosa la faccio di solito con la sintassi poi vi faccio vedere come potete farlo anche voi perché è un po' macchinoso pensate se avete 132 item come il bfq classico no? e non è che non si può far mano cioè credetemi questa cosa si fa molto bene se imparate la sintassi lo fate con un item poi copiate incollate la sintassi e lo fate con tutti però questo più avanti eh ve lo insegno più avanti quindi ovviamente non possiamo fare 132 scritture a mano pure perché ripeto le cose a mano possono essere anche soggette ad errori facilmente ok quindi avete visto abbiamo deciso un nuovo nome abbiamo deciso i valori vecchi e nuovi abbiamo così finito ok adesso il nostro output ecco la sintassi vedete quanto è semplice poi la interpreteremo perché dice ricode questi into questi quindi basterebbe copiare e incollare tutto quanto vi dà i valori questo è l'output andiamo a vedere il file dati cosa è successo alla fine perché l'ha messo alla fine perché ovviamente l'ha aggiunto tre colonne vedete uno due tre e sono i nostri item ricodificati andiamo su vista variabile ce li troviamo alla fine questi possono essere anche spostati se volete vedete qua li posso prendere spostare guardate che bello però io adesso li lascio qui e poi gli andiamo a dire scala ora l'ultimo passaggio è quello di fare il calcolo dei fattori e poi vi lascio andare allora andiamo su dati trasforma quindi prima abbiamo fatto ricodifica se fosse nelle stesse variabili la differenza è che non vi chiede il nuovo nome delle variabili perché non vi ve li sopra scrive ma io non ve lo consiglio perché poi se non vi ricordate più che cosa avete fatto perdete proprio il dato originale quindi non ve lo consiglio calcola variabile questa è una semplice calcolatrice dove però ci sono come le funzioni Excel tutte le funzioni noi dobbiamo fare una somma quindi io adesso dico fattore 1 magari vi consiglio di mettere anche l'etichetta tipo estroversione energia chiamiamola energia il fattore del big 5 tipo numerico stringa numerico ci interessa numerico e qui c'è un'espressione niente di più facile vado a prendere i file gli item che mi servono tenendo presente che se devo prendere l'item 1 mi devo ricordare che l'item 1 in realtà è invertito quindi siccome devo fare una somma devo prendere il bfq ricodificato però prima devo decidere se devo fare una somma una media qual è l'operatore quindi andiamo su per esempio funzioni statistiche qui vi dirà fuori vedete qui c'è una gruppo e qua c'è una potete anche fare più però io farei una somma doppio clic ho fatto me l'ha scritta qua è un po' come Excel ora qua che cosa vuol dire questi punti interrogativi che devo separare le variabili con le virgole allora io faccio in questo modo prendo l'item che mi serve faccio doppio clic lo butto di là oppure lo butto con la freccetta metto la virgola con la tastiera e poi vado a selezionare quelli che mi servono pure questo si fa con la sintassi cioè una volta che voi capite la sintassi fate molto prima però io vado a selezionare vedete gli item avrò una griglia da una parte da copiare dove l'autore mi dice prendi l'item 1 l'item 4 l'item 6 l'item 9 poi mi ricordo che il 6 era ricodificato allora dico ops mi sono sbagliata quindi metto il 6 ricodificato e vado a togliere quello originale perché altrimenti faccio un pasticcio e quando ho terminato premo ok allora quindi cosa mi fa mi crea una variabile alla fine del file perché vabbè lo riempie in questo ordine con la somma dei fattori poi qui sempre l'output che registra tutto insomma tutti i nostri movimenti andiamo a vedere eccola qua questa è la la variabile come vedete tipo scala perché gliel'ho detto l'etichetta energia che poi però in questo caso vi consiglio di metterlo magari già nel nome perché sennò poi insomma era una cosa anche più intuitiva vado su vista dati e me lo ritrovo alla fine vedete che questa è una somma che ha lo stesso formato eccetera eccetera allora questo ovviamente va fatto per tutti gli item che serve e a questo punto una volta che avete fatto le somme andate a fare le descrittive come abbiamo fatto prima questa volta sulle somme quindi attenzione qua per fare un reset c'è reimposta o reset in inglese tac ho fatto così adesso vado a prendere i fattori che mi servono le scale mettiamo che ne ho 5 e vado a decidere cosa voglio media attivazioni standard e vado a dare l'ok ecco qui bellissimo ho le descrittive del fattore vedete mi fa vedere l'etichetta minimo massimo ovviamente ha un altro senso rispetto agli item anche se le descrittive degli item vi consiglio sempre di farle perché sono un controllo anche quelle poi dipende dall'obiettivo della ricerca se state facendo una validazione magari dovete fare anche altre tipi di analisi però magari asimmetria cortosi però sono un controllo per capire anche come sono il minimo e il massimo cioè un controllo proprio screening e iniziare dei dati allora vista l'ora penso che dobbiamo chiudere se voleste divertirvi appunto con queste cose vi mando dei file dati da utilizzare però so che molti di voi avete i vostri dati della tesi quindi avete comunque dei dati da fare però vi mando dei dati di esempio e se qualcuno mi dice ma io vorrei fare delle statistiche per maschi e femmine non ancora non abbiamo il tempo di vedere i confronti tra medie se qualcuno si vuole andare a vedere c'è qua confronta medie di SDT modello generalizzato però non abbiamo il tempo perché non possiamo dedicare il tempo giusto però sappiate che su dati c'è un seleziona casi e volendo volete mettere maschio e femmina genero uguale 1 i casi qui sono filtrati non cancellati quindi di default che cosa vi fa il programma? vi crea un filtro vedete qui guardate che facilità dove vi elimina quelli che non avete selezionato vi prende solo il genero uguale 1 naturalmente questo è un operatore potete mettere l'operatore maschi magari di una certa età oppure maschi della classe TOT maschi di quel gruppo e poi andate a fare le statistiche descrittive le opzioni vengono conservate cioè quello che avete fatto precedente l'analisi precedente è intatta quindi voi potete fare più analisi in sequenza magari selezionando maschi, femmine il gruppo che vi serve e vi trovate le descrittive per vari vedete qui adesso ci fa vedere numeri di casi va al di 5 perché ho messo possibile? sì, possibile abbiamo 5 maschi se vado a fare le femmine attenzione questo seleziona casi non ve lo dimenticate attivo perché poi vi succede vi dimenticate che non avete dovete ripremere tutti i casi oppure dovete cancellare il filtro ma fate tutti i casi e quindi di nuovo avete i vostri 30 soggetti perché altrimenti poi non avete dei risultati strani quindi vado a prendere le femmine eventualmente così ci diamo un po' di soddisfazione premo continua e poi ok e sempre nel file dati ho fatto una scusate ho tolto uno strumento qua comunque sempre nel file dati nel file dati vedete che il filtro stavolta prende le femmine genere 0 vedete questi sono sbarrati sono quelli non utilizzati comunque una volta che l'avete fatto non andate neanche a controllare perché prendete fiducia anche nel quello che fate quindi non serve andare a controllare se l'ha fatto però all'inizio si fa descrittive vedete io non devo fare nulla perché l'ho fatto precedentemente premo ok e come vedete lo posso vedere da varie cose 25 quindi in effetti erano 30 il campione totale vedete poi ho 5 maschi e 25 femmine come posso vedere se mi sono dimenticata questi come si chiamano nell'output qui ho note che è un libro un libretto non si vede molto ma è una forma di un libretto un'icona chiusa perché non è visibile se io ci clicco due volte guardate qui su questo mi apre questo ecco quello che vi dicevo prima tutti i dettagli l'orario il file e mi dice genere uguale 1 filter cioè io i filtri ce li ho anche qui oltre ovviamente al numero di casi che mi dà conferma però io mi potrei dimenticare di questo vi vorrei dire tante altre belle cose però effettivamente sono tante queste cose quindi due ore penso che siano sufficienti per iniziare e professor Di Mele non so se c'è sì ecco qui sono state sastiva volevi che facevamo qualcos'altro no no ce n'è abbastanza per esercitarsi eh purtroppo diciamo la prima la l'impostazione dei dati è importantissima no quindi questo tempo era necessario secondo me eh insomma era doveroso e quindi preparare il foglio Excel bene secondo me sì infatti io penso tutti quelli che appunto hanno partecipato tanto avete anche la mia mail se mi mandate la mail vi mando magari lo manda anche te Luciano così puoi condividerlo insomma condividiamo una mail di gruppo eventualmente e vi mando una condivisione una cartella drive dove ci sono delle dispense in pdf addirittura io ho messo un pdf di ibm di 100 pagine ma è molto molto semplice dove fa vedere in italiano tutte le schermate del programma quindi potete ripercorri anche questo perché poi oggi non è che bisogna fare le proprie dispense ci sono i software danno sempre anche delle guide molto ben fatte e poi appunto il file un file excel su cui esercitarvi vi do anche un google sheet perché così se vi capita di operare con google form vi troverete magari google sheet così vi esercitate e poi alla prossima volta magari scrivetemi pure se avete dei dati dei dubbi che dovrebbe essere penso possiamo fare anche la prossima settimana solo che il primo giugno forse non lunedì quindi poi ci sentiamo insomma per vedere la disponibilità di tutti no ma io perché forse ho sì devo preparare gli esami quindi magari dal tre in poi insomma così non perdiamo l'allenamento nel frattempo voi se eccitatevi o con i file che vedo io quindi rifate tutte le procedure tanto posso mettere questo un link a questo video adesso ci organizziamo e poi chi ha i propri dati quindi si troverà di fronte a nuovi problemi perché non abbiamo affrontato tutte le tipologie di dati di difficoltà e magari la prossima volta possiamo provare con dei dati dove no? quelli tuoi Luciano pure se vuoi quelli della ok mi preoccupo di farvi reperire il programma però penso se dura un mese dai intanto ce la fate con il trial io confermo che dura 29 giorni ottimo bene 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 scuso per l'errore che ho commesso prima mi ero confusa con la mia ricerca dei libri online di testo che sono aperti e saranno aperti fino a settembre invece questo probabilmente aveva previsto un allungamento ma c'è scritto solo fino al 15 giugno quindi ok è scritto una normale ormai ok 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 va bene ok va bene tanto insomma poi ecco chi fa parte di gruppi di ricerca magari in qualche modo può avere anche la possibilità di utilizzare licenze di laboratori di dipartimenti però nel frattempo il trial di 29 giorni non mi sembra poco cioè in 29 giorni si fanno tutte le analisi possibili quindi e poi eventualmente appunto i trial sono fatti così non voglio dire cose diciamo inappropriate però magari uno può anche risalare su un altro computer c'è altri 29 giorni insomma non facciamo nulla di male no? infatti io uso le macchine virtuali in questo caso eventualmente le volevo dire che la mail dell'università un inettuno come studenti non prevede il drive quindi sicuro Luciano? io pensavo di sì no 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 come? mi sembra di no e ce l'ho io vabbè ma potete anche avere una gmail infatti io richiederò il materiale attraverso la gmail personale ok ora vediamo come organizzarsi tanto io il link l'ho mandato tutti per mail quindi probabilmente l'email di tutti eventualmente come riferimento il professor di mele io cioè insomma la mia mail e magari poi facciamo un po' di se qualcuno non è non ha i contatti io ce l'ho Eleana ah io sono quella di un inettuno però c'è il drive vabbè se qualcuno qua magari è un ex diciamo non ha più la mail non accede alla mail però i dottorandi ce l'hanno i tirocinanti ce l'hanno vabbè comunque anche una gmail non c'è problema sì 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 va benissimo tu quindi ce l'hai Cristiano tu sei il tirocinante sì 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 certo quella di un inettuno c'è tutto dentro eh sì no è il drive mi sono confusa è il calendario che non abbiamo un drive c'è ok un consiglio spassionato non usare l'open source PSPP perché è completamente diverso e da molte funzioni ma grazie Anita perché io non lo conosco l'ho preso da te da altri che comunque siete stati pure bravi a impararlo perché mi hanno detto non è intuitivo allora lo sconsiglio proprio cioè non lo consiglio proprio io pensavo fosse un errore di scrittura quando mi hai detto PSPP lo sapevi Luciano che c'è questo programma è un open source di SPSS ma no di SP un open source che vuole emulare SPSS emulare si chiama PSPP per cui a meno funzioni viene implementato lentamente se devi andare a cambiare certe cose che sono automatiche in SPSS lo devi fare in codice praticamente lavorare no 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 lasciamo stare no infatti infatti guarda vi consiglio Power BI R lei lo consiglia si si R lo consiglio io dovrei fare anche una cosa simile su R negli incontri su R perché io nella magistrale abbiamo due corsi dove facciamo R quindi avevo detto agli studenti che mi avevano seguito che magari avevi fatto un recap quindi magari lo possiamo aprire pure a voi però R è molto diverso cioè è più prezzatile ma è molto difficile cioè c'è la sintaglia c'è il linguaggio di programmazione quindi lo consiglio per chi vuole approfondire ma SPSS è un altro mondo è molto più friendly fa delle cose molto più semplicemente ecco ok grazie pure a chi ci ha seguito su Facebook perché avevo un gruppo chiuso e ho messo la diretta anche lì quindi c'era qualcuno che non poteva accedere da Zoom vedo che ok sì qualcun altro insomma ci ha seguito professoressa solo un'ultimissima domanda per riuscire a vedere la lezione indifferita allora io penso di sì penso di metterla allora per chi ha il portale Uninetto non la posso mettere adesso vedo mi faccio aiutare anche da metterla in un luogo dove voi potete vederla ma penso di sì penso che si può fare altrimenti la classe interattiva non la puoi mettere eh però se non possono accedere al mio corso adesso vediamo comunque sicuramente adesso scarico il video e in qualche modo lo renderò fruibile a voi sul drive sì grazie mille grazie di nulla grazie a voi per la partecipazione grazie vi vedete queste cose che abbiamo visto così la prossima volta siete più smart già avete una familiarità col programma e possiamo fare cose un po' più diciamo che possono soddisfare anche le nostre curiosità di ricerca esplorative dati bene grazie 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 c'era qualcuno qualcuno ah no niente arrivederci ciao grazie buonasera a tutti buonasera grazie 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 grazie